Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi giovedì 18-17 maggio. Quello che è successo è che il patto tra Salvini e Di Maio, il cosiddetto contratto di governo, è stato siglato. Ci sono alcuni aspetti che devono essere ancora approfonditi, ma già ieri sera a Matrix ne abbiamo parlato. Oggi i giornali ovviamente hanno lo stesso documento che abbiamo svelato ieri. Il patto è fatto da 40 pagine, c'è tutto il contrario di tutto. Nel senso che se voi immaginate che nel patto c'è la flat tax, cioè l'idea di far pagare di meno anche persone che hanno redditi alti perché si pensa che in quel modo si ha più sviluppo, cioè si pensa che le imprese, le persone se consumano e intraprendono e lo fanno liberamente con più soldi riescono a generare più crescita, ebbene questo concetto si tiene con un altro concetto e cioè quello del reddito di cittadinanza che non è un assegno di disoccupazione come ce lo stanno vendendo perché all'interno del patto, oggi non l'ho letto sui giornali, non c'è una scadenza, cioè una fine beneficio mai. Nel senso che 780 euro arrivano a chiunque non lavori se certo non ha rifiutato tre offerte di lavoro. Ma voi siete così certi che a Cosenza, a un signore, arriveranno tre offerte di lavoro? A Cosenza, a Gera, a Messina, a Foggia, a Cerignola. È ovvio che a Bergamo arrivano, ma a Bergamo, cari amici miei, il reddito di cittadinanza serve molto poco perché già ci sono i redditi di inclusione e soprattutto c'è la piena occupazione. Nei paesi in cui c'è minor, come posso dire, occupazione, anzi grande disoccupazione del reddito di cittadinanza sarà un assegno soltanto dato in bianco. Per sempre non c'è un limite temporale, è chiaro? Non c'è un limite temporale, una roba incredibile. Tra l'altro è molto interessante perché questo fa scopa con un altro principio del contratto di Di Maio e Salvini, molto semplice e cioè sulla cosiddetta buona scuola si dice che è sbagliato tutti questi professori che vengono, non dice, deportati dal nord al sud. Quindi con questo che cosa si sottintende? Si sottintende che se il ragazzo di Gera che prende 780 euro ha un posto di lavoro a Milano col cavolo che quel posto di lavoro fa parte delle tre richieste che gli hanno fatto perché se no mi dovete spiegare, i professori scolastici sono deportati se sono portati da Sicilia al nord dallo Stato e il giovane che vuole lavorare e non trova lavoro a Genova deve essere obbligato ad andare a Milano se no perde il beneficio. E dai, è chiaro che non è così. A parte questo, la cosa che vi fa capire tutto sul patto Salvini-Di Maio ci sono alcune cose che possono essere più o meno interessanti è il prima pagina del fatto in cui ci spiegano per quale motivo ci sono delle cose positive. Le seguenti. Leggi anti-corruzione, già abbiamo l'ANAC si pensa che fai una legge, manca la corruzione è esattamente il contrario ci vuole una legge di meno per avere meno corruzione cosa che peraltro scrive oggi Nordio sul messaggero. Leggi anti-evasione, anche qua leggi anti-evasione mentre invece la strada è quella della flat tax non è delle leggi anti-evasioni. Leggi anti-mafia si parla di sequestri ancora più invasivi del patrimonio dei sospettati mafiosi senza che ci sia neanche un processino sequestriamoli tutti un po' come hanno fatto con l'ILVA che l'hanno sequestrata per disastro ambientale e non c'è ancora una sentenza di primo grado purtroppo oggi è morto un nuovo operaio all'ILVA è una roba drammatica. Leggi anti-prescrizione perché è ovvio quando tu entri in un processo l'idea che tu ci possa rimanere per 30 anni non è un problema per i giornalisti del fatto perché com'è la tesi? Paura non avere, male non fare o male non fare, paura non avere io non avevo nessuna paura quando mi sono accorto che ho avuto un processo di 7 anni per la Marcegaglia e il suo amichetto Montante che oggi avrà un processo ed è stato arrestato insomma io sono stato 7 anni a farmi un culo così quindi a differenza di Travaglio io non sono stato mai condannato però vi assicuro che la prescrizione io non sono stato prescritto ma la prescrizione è a tutela delle persone più deboli. Poi anti-conflitto di interesse questo è un grande problema è conflitto di interesse perché nel mondo di internet nel mondo delle zuppe di porro nel mondo degli influencer il problema sarà Canale 5 probabilmente è così. Poi più acqua pubblica ancora con queste stronzate più acqua pubblica che non vuol dire assolutamente un cazzo facciamo più acqua privata gestita dai privati che abbiano un guadagno diverso rispetto a questi guadagni orrendi che hanno le aziende municipalizzate controllate dai comuni in gran parte anche dai privati che non si occupano di mettere a posto la rete e poi ovviamente i vitalizi che è il grande tema a cui piace al fatto. Bene, se voi pensate che questo sia il programma probabilmente siete quelli che hanno votato o sarete tra i 17 milioni di italiani che hanno votato tra Lega e Movimento 5 Stelle. Welcome. Perfetto. Gestite l'Italia. Io sono abbastanza contento di questo perché secondo me io che non amo per niente la democrazia però rispetto le regole siamo in un sistema democratico hanno votato per più acqua pubblica legge anticorruzione ma chi se ne frega andate avanti va bene così e poi c'è questo famoso comitato di conciliazione per il quale quello che è in contrasto tra due partiti che sono fino a prova contraria hanno fatto una battaglia elettorale l'uno contro l'altro c'è una specie di comitatino che decide come dirimere questi problemi e Giordano Bruno Guerri oggi sul giornale in maniera un po' irrispettosa anche il fatto trovava che forse era un po' incostituzionale ma Giordano Bruno Guerri secondo me è molto più divertente ci spiega che è una copia forse del gran gabinetto di Bussolini alla ricerca del Premier perché il Premier non l'hanno ancora trovato ma vi dico subito che secondo quello che mi hanno un po' detto gli amici della Lega cosa fanno? O è Di Maio o è comunque uno del Movimento 5 Stelle e ben venga un bel leader del Movimento 5 Stelle il taglio alle pensioni sopra i 5 mila euro è un'altra cosa che è nel programma cioè nonostante tu abbia pagato immagino dei contributi che ti permette di avere una pensione sopra i 5 mila euro il che può essere mi spiace per voi ma esiste una disuguaglianza c'è chi guadagna 2 milioni di euro all'anno e quindi si è pagato i contributi per poter avere 5, 6, 7 mila euro di pensione beh bisogna tagliargile una bella idea liberale mi sembra la cosa che poi però fatte tutte queste premesse sul fatto che questo programma non mi piace mi sembra poco liberale c'ha pochissimo di quello per il quale secondo me uno ha votato il centrodestra che contribuirà a questo governo beh una cosa però fatevela dire per favore che questa idea che ci sia stata ieri una scossa sui mercati cioè la solita tesi che i mercati ieri hanno perso il 2% lo spread è arrivato a 150 portato avanti da Fubini oggi sul Corriere della Sera scossa sui mercati o dal sole 24 ore ragazzi basta calmi perché i mercati non è che ci vuole George Soros oppure quali sono questi i vostri amici perché George Soros è usato molto da Repubblica diciamo i premi Nobel che peraltro se fossero stati bravi sui mercati sarebbero diventati miliardari invece di prendersi un milioncino da quei cretini dell'Accademia di Svezia avrebbero investito ma invece loro sono bravi a parlare non a fare i trader ma comunque lasciamo perdere tutta questa parentesi i mercati un giorno salgono l'altro scendono ieri hanno perso il 2% oggi stanno riguadagnando dall'inizio dell'anno il mercato italiano cari amici miei ha guadagnato l'8% quindi non mi dite il doppio di quanto ha guadagnato i francesi l'8 volte quanto ha guadagnato il mercato tedesco allora non mi spiegate adesso che c'è questo diluvio sui mercati trovo che sia molto giusta la posizione in questo caso di Di Maio di Salvini direi ragazzi sapete che c'è di nuovo fateci fare il governo e poi i mercati capiranno no questo è l'atteggiamento secondo me se c'è una primazia della politica sui mercati nella loro gestione non nell'utilizzo dei mercati e dei loro fini vabbè comunque andiamo avanti l'altra cosa che trovo insopportabile è il trattamento che ormai si fa proprio estetico fisico nuovi leader che mi ricorda molto quello che si è fatto nei confronti di Berlusconi lo psiconano tutte queste cose con cui Berlusconi veniva aggredito dai giornali borghesi oggi Gramellini prende per i fondelli il selfie di Toninelli riflessivo lo prende per il culo va bene dicendo il selfie riflessino sembra un pesce ma lo prende in giro come l'altro giorno Scansi che voglio dire basterebbe che si guardasse allo specchio orecchino con l'aria d'astitico insomma prende in giro il sorriso di Di Maio figuratevi un po' voi se io voglio difendere Toninelli e Di Maio non me ne frega niente ma magari qualche argomento un po' più forte che quello di dire che uno c'è un sorriso che te sorridi e l'altro che c'ha cioè si attaccano fisicamente queste persone gli si storpiano i cognomi insomma basterebbe leggere questo programma che loro hanno fatto forse e criticarlo esattamente per i motivi per i quali invece il giornale di Scansi e il giornale di Gramellini ogni tanto invece li apprezzano Roger Scruton bellissimo sulla verità il grande conservatore l'uomo della destra non liberale per carità dice attenzione non lasciate l'ambientalismo in mano alla sinistra anzi se c'è una cosa reazionaria è la conservazione dell'ambiente e del territorio cioè nulla è più conservatore che l'ambientalismo da leggere il pezzo oggi numero uno se non ce l'avete trovatevelo trovatevelo è il pezzo di Peppino Sottile sul foglio beh lui racconta e mette un po' in fila questi fenomeni dell'antimafia questi ipocriti pieni di pigne nella testa ma che giravano con quest'area sì io che combatto la mafia che sono caduti nelle meaglie della giustizia montante di cui vi ho parlato nei giorni scorsi difeso oggi da Sgarbi ma secondo me il tema che lui lo difende per la fumosità delle accuse ma resta il fatto che questo faceva il fenomeno il paladino dell'antimafia con i dossier su tutti quanti pensava quando parlava con la Marcegaglia contro di me diceva eh c'è i dossier sulla Marcegaglia perché era lui che faceva i dossier non perché li facessi io tant'è che non l'hanno mai trovati Susanna Saguto la giudicessa la giudice che si occupava del sequestro dei patrimoni dei mafiosi sequestri che oggi secondo il patto di governo dobbiamo rendere ancora più forti ancora più sì quelle che sequestrano il patrimonio ancora prima del giudizio poi ci pensa la Saguto con i suoi amichetti ad azzerarlo e poi tanti altri ingroia che ha fatto la trattativa antimafia e poi è caduto sui rimborsi spese dei suoi viaggetti insomma quello che dice Peppino Sottile che negli ultimi anni dopo gli arresti di Rina e di Bagarella certo c'è ancora Messina Danaro fuori a combattere la politica non è stata la mafia ma sono state a influenzarla a renderla succube non è stata la mafia ma sapete chi è stata? sono stati i professionisti dell'antimafia i Montanti i Saguto gli Ingroia insomma la politica vittima di questi che oggi sono tutti quanti indagati bellissima la storia di Salerno lo trovate sul mattino di oggi arrestati 30 parcheggiatori abusili e a Salerno dicono qui si può fare in realtà perché gli arrestano? beh gli arrestano per un semplice motivo perché pare che non è che fosse volontari i 5 euro che dovevano dare ai parcheggiatori ma fosse una vera e propria estorsione l'ultima cosa con il titolo del tempo e su questo concludo la pecorella della Raggi quando voi mi dite difendiamo la Raggi se è troppo antigrillino eccetera qual è la proposta della Raggi per togliere per abbattere e per rendere più bassi i prati e per manutenere la città e prendere gli ovini a tagliare i prati a Roma se questa cosa la racconti in giro ti dicono ma che cazzo stai dicendo è falsa stai raccontando una balla non è vera non è possibile il sindaco di Roma prevede di risolvere il problema dei nostri giardini pubblici con le pecore ragazzi vi giuro voi dovete sentirla io ieri non ho parlato perché l'ho invitata in radio la Pina Pinuccia non si chiama Montanarini che si occupa di questo l'assessore questa ragazzi voi non gli dareste neanche l'incarico di caricare la lavastoviglia a casa vostra io non glielo darei perché non saprebbe come mettere i piatti dove li mettiamo i piatti dove mettiamo il detersivo metterebbe non so il detersivo al posto del brillantante il brillantante al posto dei piatti cioè è una persona che mi spiega che il problema di Roma lo risolviamo con le pecore ragazzi giuro giuro è vero leggetevi i giornali voglio dire il tempo lo mette in prima pagina la pecora della Raggi gli altri giornali le raccontano questa è la soluzione dei problemi a Roma voi immaginate il prato di piazza Venezia che ci mettiamo le pecore e come le portiamo e chi le porta e il pecorino come lo chiamano il pecorino del duce e poi dopo che cosa facciamo prendiamo le pecore le portiamo a Villa Borghese e chi le contiene a Villa Borghese e quanto ci costa portarle lì e siamo sicuri che tagliano bene e non si mangiano i fiori e poi i bambini che vanno vicino alle pecore avranno il timbro sanitario perché non si portano le zecche in questa Italia in cui c'è un timbro anche cazzo se io devo andare nel bagno pubblico beh io questa cosa delle pecore nel centro di Roma veramente io penso che dà il segno di da chi siamo governati in questa città che va nello sfascio cari amici miei io vi saluto vi do appuntamento come sempre questa sera 105 Matrix sito nicolaporro.it chi non l'ha visto è un cornoto e se vi piace questa zuppa condividetela ciao ciao Grazie.